Cucu, bonjour mes amis, bentrovati, bentrovati, nonostante la voce nasale, abbiate pietà, la voce un po' così cavernosa, registro impavida e prendo a pretesto un paio di commenti che ho visto sotto il penultimo video di Martina Vinai, vi lascio qui, che saluto, due ragazze Anna e Marika, se non erro, comunque andando al video vedrete i riferimenti, a domanda posta dalla stessa Martina sulla valutazione degli ombretti mousse di Clio, hanno scritto due commenti, il primo soprattutto quello di Anna, sembravano veramente parole uscite da me o meglio erano le parole che stavo scrivendo nel commento, mi sono molto ritrovata e quindi era da un po' che volevo fare questo video, prendo a pretesto questo commento, il video di Martina per dirvi i miei top ombretti mousse, quelli che nel corso del tempo ho trovato, comprato, sperimentato e parto proprio da lui, numero 132 Rouge Contrast, uscì senza nessuna specifica sul fatto che fosse mousse, era comunque un ombretto cremoso, molto soft, questa è la situazione attuale, è rimasta una cialdina, sembra addirittura una cialda infimo, si è seccata tantissimo, è stato bellissimo finché è durato, cioè è durato veramente un paio di mesi e ora non lo butto più perché il prezzo che ho speso era esorbitante, era un bellissimo ombretto, lo tengo lì da collezione. Se qualcuno mi obiettasse l'hai tenuto aperto male, è passato troppo tempo, non hai avuto cura nel chiudere accuratamente il pottino, dico assolutamente no perché qui ho uno dei primi ombretti mousse di Wycon, soft eyeshadow, ombretto in crema a lunga tenuta al numero 11, ha perso tanto della mousse che aveva all'inizio ma è ancora un bellissimo ombretto, ovviamente la consistenza morbida in mousse è andata via, ma guardate che riflessi, che luce, che sprigiona dopo. Io penso 2012-2013 siano gli anni in cui ho comprato questo ombretto, questo l'ho comprato forse tre, quattro anni fa, non c'è paragone. Impavida però ho sempre comunque di Chanel, questo 840 Patiné Bronzé, è un bellissimo colore, questo l'ho preso lo scorso anno, è soft, devo dire è soft, è morbidoso, vedremo la durata, un anno è un tempo limitato rispetto alla valutazione che ho degli altri ombretti, è un bellissimo colore, non ha la consistenza mousse che io ricerco, è però un ombretto molto bello, è veramente un bronzo patinato, non lo posso ancora valutare, non è di quegli ombretti mousse che mi ha fatto perdere la testa, che appena svocciati voi dite è un bellissimo ombretto, è vero si sfuma, per ora non va nelle pieghette, però sono sempre anche alla ricerca di alternative economiche che mi diano sempre grandi performance e grandi soddisfazioni come questo di Wicon, il cui prezzo è piccolissimo, ha avuto un riscontro eccezionale sia come qualità come durata nel tempo, sono passati anni e dura ancora moltissimo, io non credo, non mi ricordo se Kiko abbia mai presentato degli ombretti impottino cremosi o comunque mousse soft, io ricordo in questa edizione limitata metallica, però ha fatto una pessima riuscita questo colore bellissimo che non butto via, non lo butto via perché è un bellissimo blu elettrico, questo a me sembra di ricordare che sia stato soft, lo tocco e avverto ancora come posso dire la texture fredda, però si è sfaldato nel corso del tempo, sono passati un po' di anni e quindi sinceramente fatico a ricordare, se voi in questo siete più brave di me, fatemi sapere se vi ricordate questi ombretti metallici in pottino tra l'altro sono della stessa linea quegli ombretti a matitone in stick con effetto freddo di cui vi ho già parlato, se riesco a recuperare ve li mostro, sono riuscita a recuperare lui lo 04 di questa linea, sono sicura di ricordare che fossero usciti insieme perché mi piacciono da matti le colorazioni, questo blu è bellissimo, sono degli ombretti infusi con acqua ad effetto fresco che sono stati anche ultimamente riproposti, ovviamente non sono cremosi, non sono soft però guardate che colore, sono bellissimi a distanza di anni, questi hanno avuto un'ottima riuscita, questi peccato perché erano bellissimi però la texture cremosa, soft, se ricordo bene, non ha resistito al tempo questo è recente, è un cremoso che ho amato della Lost in Amalfi, lo 02, un bellissimo colore che comunque sta seccando vedete che si sfalda, anche questa è una bellissima striata di luce che non texturizza la palpebra soprattutto se avete una palpebra AG, bella, luminosa, si sfuma molto bene però anche qui andiamo col passare del tempo a ritrovare una formula che va a seccarsi e a non garantire quelle performance di cui sopra, di cui lui il capostipite degli Sweetie Love, eccoli qua, io ho presi il Frizzy Peach, questo colore, anche un bellissimo colore che comunque ho utilizzato che ho utilizzato molto morbido a distanza di tempo, scrivente morbido, qui il rischio e lo vedo anche già nelle pieghe della mano è una consistenza che purtroppo fa spessore, texturizza una volta che si asciuga va nelle crepette, se poi avete la palpebra che tende a cadere, quindi ad arricciarsi, vi segna tutto io non so se riuscite a vedere, forse anche il colore che enfatizza, ma nel momento in cui poi voi volgete l'occhio lo sguardo rischia veramente di segnare troppo, io non amo moltissimo questa texture la formula resiste nel tempo, è sempre molto morbida, va benissimo su palpebre giovani dal mio punto di vista va benissimo prelevata con poco prodotto e sfumata moltissimo, lavorata proprio per non andare a creare queste texture che ecco, una volta che si asciuga, tira e comunque crea dell'attrito con la vostra pelle non è liscio come le altre texture, peccato perché i colori sono molto belli però fondamentalmente questo è il problema, che fanno un po' troppo spessore arriviamo a Charlotte Tilbury con questa linea, Jewel Pot, io ho preso la colorazione Walk of No Shame all'appello mi manca il Pillow Talk cremoso di Charlotte Tilbury, aspetto il Cyber Monday per colpire pecc, nulla da dire, so che si tratta di una texture totalmente diversa dai cremosi classici vi ho detto, sto aspettando il Cyber Monday, mi aspettavo sinceramente, io purtroppo con Charlotte Tilbury non ho questo grande amore, mi aspetto cose strabilianti, poi quando le provo dico, ah sì, vabbè le vedo anche da altre aziende che magari sicuramente prenderanno spunto non voglio dire copiare o d'altro, ma è una colorazione brillante, molto luminosa nel senso che ha molti brillantini, micronizzati, impercettibili, però non mi fa impazzire mi aspettavo molto molto di più, vi dico, sono sempre titubante adesso a spendere dei soldi per questo brand, perché così anche nelle palette, vabbè, do un'altra chance, riproviamo e poi rimango un po' basita, è un mio problema mentale, però vedete, sicuramente migliore rispetto a Clio, quello che devo invece sottolineare per onor del vero è che è sicuramente più luminoso rispetto alla texture qui di Clio, che fa già attrito, si è già increspata qui anche se io piego la mano, comunque le mani sono secche, adesso non idratate, però vedete che non segna, non segna e invece qui è tutta, tutta rigata, si è andata proprio a infilare la texture dentro alle pieghette e per dire, non lo fa neanche Chanel, neanche Kiko, quelli di Clio dopo un po', più la texture si asciuga, più si va a infilzare, a infilare nelle pieghette. Qui aspettavo una texture diversa, quando ho aperto anche il pottino avevo difficoltà a prelevare il prodotto, come se fosse protetto da una patina che faceva sfaldare un po' l'ombretto. Mi ripeto, per il prezzo che hanno mi aspetto sempre delle performance strepitose. Arriviamo agli ultimi ombretti di cui vi ho già parlato, proprio perché entusiasta, la collezione di Wicon in collaborazione con Niloufar è stata una collezione che a me ha colpito moltissimo, forse perché mi ha ricordato questo ombretto, sono passati sicuramente quasi dieci anni e sono delle texture bellissime con cui io mi trovo benissimo, adatte per tutte le età, per tutte le palpebre, sono delle mousse, qui siamo in presenza di mousse, qui ho il colore shimmer brown, è cremoso, una scia di luce, cremoso, leggero, una texture che si sfuma e rilascia luce, colore senza fare spessore, bellissimo, anche col passare delle ore e del tempo, non increspa la palpebra, non texturizza, non va nelle pieghette, si sfuma che è una meraviglia, sia con il polpastrello, con il pennello, ancora meglio, è veramente veramente molto molto bello. Considerando tutti gli ombretti che avete visto, dal più caro al meno caro, quando poi si tratta di tirare le somme e di vedere che il risultato è più o meno lo stesso, con una differenza notevole di prezzo, stiamo parlando di una differenza di 20 euro da pottino a pottino, Nilu farò ovviamente, era un'edizione limitata, per chi come me è riuscito a trovarla nei saldi, ha avuto veramente fortuna, è stato un colpo da maestro, ma guardate, sprigiona luce e sembra quasi che io non abbia passato la texture sul dorso della mano. Invece ho prelevato il prodotto varie volte, nonostante questo, colora, vedete, si sfuma, dona luce, anche se voi abbondate, stratificate, regala sempre questa luminosità diafana, non so come dire, non c'è spessore, non viene marcato il colore, è quasi soffuso, presente e mi piace per quello, cosa che, guardate qua su Clio, guardate, mi vedete tutte le pieghe delle mani, sembro un serpente, cosa che effettivamente, vabbè, non c'è neanche di qua. La texture di Wicom sembra quasi piallante, che sia andata proprio a coprire tutte le pieghette presenti nella pelle, un po' anche Charlotte sicuramente, ma parlano, parlano gli swatches, insomma, le applicazioni parlano da sole. Con l'edizione limitata di Niloufar per Wicom siamo proprio in presenza di una soft mousse quasi piallante, che vada a uniformare il colore, uniformando anche la base su cui andate poi ad applicare e sfumare, quindi per me questi sono stati dei top di gamma. Ci riaggiorniamo sul Chanelino e poi sicuramente sulla linea classica di Charlotte Tilbury che vado a comprare un po' così perché, ecco, quando compro un prodotto che supera i 30 euro, io mi aspetto grandi cose. Quando vedo che le performance si equivalgono, comunque non sono ottimali, non sono di alta qualità, come dice la Michela Di Maio, mi dovrebbe fare anche il caffè, portarmi anche il croissant a letto, se possibile. Ecco, rimango delusa perché, voglio dire, guadagnare 30 euro, se voi contabilizzate la vostra ora di paga oraria, fate un conto, c'è gente che ci mette mezza giornata, ecco, e bruciare 30 euro in un pottino che poi mi lascia l'amaro in bocca, io personalmente non sono felice. Quando Lidl spornava delle belle novità interessanti, anche questo Golden Glow Glitter Padding di Sien fu un ombretto ed è ancora un ombretto strepitoso, la consistenza è cremosissima, sembra veramente di toccare panna cotta. Questo è il colore, che ha una consistenza quasi gelé, bellissimo. È proprio morbidoso, affonda il dito in questa mousse, molto molto bella. La texture è molto molto delicata, regala una luce soffusa che non texturizza assolutamente, la palpebra è molto delicato. Chi ha avuto la fortuna di recuperare questi ombretti lo scorso anno ha fatto un affare. Credo ci fosse anche un'altra colorazione. Stupendo questo tipo di ombretto. Un video febbricitante, si vede che non sono ancora in pieno delle mie forze e si vede, si sente, però è un video per stare in compagnia e spero di avervene fatta. Noi ci vediamo alla prochaine. Baci!